Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Andrea Zamburlin, il regista del film J-Loop, oggi parleremo di Deadpool e Wolverine senza spoiler, quindi potete tranquillamente ascoltarla mentre fate le vostre cose, mangiate, dormite, fate merenda, vi allenate, state andando in macchina a qualche parte o magari state facendo all'amore, perché mai dovreste fare all'amore sentendo me in sottofondo che parlo di Deadpool e Wolverine? Vabbè, mi sono perso in tutto questo, quindi comunque se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, questo è veramente importantissimo, quindi se state facendo all'amore interrompete quello dove siete e cliccate su iscriviti. Si parte con la recensione anche perché ho fatto un preambolo lunghissimo e tra l'altro del tutto inutile. Ragazzi per prima cosa vi devo dire che la trama non c'è, questo film non ha una trama, ma se pensate a Deadpool 2 o Deadpool 1, allora quelli avevano una storia da raccontare. Qua in questo caso è semplicemente una parabola romanzata di quello che è successo, quindi del passaggio che ha dovuto subire Deadpool dall'acquisizione della Fox ai Marvel Studios. E di fatto c'è dentro tutte le preoccupazioni e il, ok, cosa posso fare per riuscire a stare dentro la Disney, quando invece prima all'interno della Fox potevo permettermi di avere un divieto ai minori, si parla sempre degli Stati Uniti, eh? Potevo dire un sacco di parolacce, mostrare tutto il sangue che volevo, adesso cosa accadrà a me? E in tutto questo tempo che è passato nel cercare di ridefinire una possibile e come far entrare Deadpool nel MCU, sono successe un sacco di cose all'interno della casa Marvel. Ovviamente si parla dei flop e il film incentra la sua trama proprio su questo, cioè sul vogliamo mettere Deadpool nell'MCU, non sappiamo bene come, ma abbiamo preso un sacco di flop uno dopo l'altro, il fattore multiverso si sta ritorcendo contro, perché se prima all'inizio sembrava una figata colossale, adesso invece è di difficile gestione, il pubblico è stanco di vedere mille film e mille serie TV per capire la trama di uno di quei film, perché un film deve essere a sé stante, poi può essere interconnesso con i vari personaggi, con dei cammei, con dei rimandi alla trama più grossa, però non posso non capire un film se non ho visto altre dieci serie TV, quindi sapendo tutto questo il film prende proprio la palla al balzo e decide di essere la trama della sua storia. E se la trama è meta per definizione stessa, ragazzi i cammei a questo giro vanno oltre il meta, sono meta ultra. Non posso dire nulla perché questa è una recensione senza spoiler, però vi posso garantire che Reynolds è uno di quelli che ha ascoltato molto bene, non solo i gusti e le critiche che il pubblico ha riservato nel corso degli anni alla Marvel giustamente, ma ha anche ascoltato un po' di teorie, le teorie del complotto di Marvel, perché ci sono dei cammei che soddisfano e danno la gioia ai fan che anche solo avevano ipotizzato una cosa del genere, capirete quando lo andrete a vedere, e mi sto riferendo a cammei veri e propri, quindi roba da dieci secondi, ma anche a, e qui si parla invece di una fetta un po' più grande, di alcuni cammei che non sono proprio dei cammei, perché durano tanto all'interno del film e svolgono proprio un ruolo, quindi sono dei personaggi secondari, non è una roba da dieci secondi, ma da minuti interi, da scene intere, che servono a dare la degna conclusione a dei personaggi che diciamo non hanno avuto l'opportunità di concludere il loro percorso all'interno di quello che era l'universo prettamente Fox, qui si parla tanto di Fox, è un no way home, ecco buttiamola così, è un no way home del patrimonio Fox con l'aggiunta di qualcosa che è stato, che non vedremo più, ma che i fan e l'attore stesso coinvolto ha tanto desiderato, quando lo vedrete anche qui andrete di matto. In più c'è anche, questo devo cercare di essere sibillino, quando la sala lo ha visto in verità mi sono reso conto che metà esultato e metà non sapeva perché l'altra metà stesse esultando, mi sto riferendo a un personaggio degli X-Men che si è sempre vociferato, stesse per arrivare con un film stand alone, ma poi non si è concretizzato ed è sempre stato legato a un attore, non è una speculazione, cioè questo attore è sempre stato parte del progetto, ma il film non è mai riuscito a prendere il via per la produzione, ecco, ragazzi qui ce lo mostrano e cazzo se funziona, quindi te lo godi questo film tanto di più, quanta più roba sai del backstage, del dietro le quinte, degli accordi e disaccordi che ci sono stati tra Marvel e attori e tutto quello che sta attorno e che ruota attorno un po' da nerdone al mondo dei cinecomic e quindi abbiamo capito che più informazioni possedete su quello che accade nel dietro le quinte delle produzioni Marvel, dei dissing tra i vari attori e produzioni, più vi divertirete. Al tempo stesso la musica è un catalizzatore comico in più, perché ci sono delle scelte perfette che servono a innalzare ulteriormente il livello della comicità della scena. Le canzoni inserite in certi momenti danno quella stoccata comica in più, perché c'è l'associazione di chi ascolta da dove arriva quella musica, quella canzone, e di dove la sta inserendo in questo momento. Quindi il cervello elabora tutte queste informazioni, la abbina a quello che vede, e il cervello esplode e la potenza comica della scena prende tutta un'altra spinta e viene tantissimo usata non solo Like a Prayer di Madonna, che non è solo quindi la canzone del trailer, ma è fondamentale ed è portante all'interno del film, soprattutto nella incredibile, bellissima, mi ha fatto venire ai brividi, la scena finale. Ma c'è anche Iris dei Goo Goo Dolls, che chiaramente deriva da City of Angels. E non dico nient'altro. E sì ragazzi, si scherza anche sul fatto che Jackman abbia fatto The Greatest Showman e in una scena partirà anche un pezzo della canzone, ma nel momento in cui parte fa più ridere perché prima viene preso per il culo o perché ha partecipato a quel film, o perché ha cantato. Questo è un film che va visto in sala più che mai, e non sto parlando solo perché le immagini sono grandi e l'audio è fighissimo, ma per l'esperienza, perché l'entusiasmo, la sorpresa e l'eccitazione che si generano sono contagiose se vissute in mezzo a tante altre persone. Questa poi è una pellicola come No Way Home, dove non puoi pretendere che il pubblico di fianco a te stia in silenzio, perché sicuramente partiranno i vari commentini tra il mio vicino di posto, ma pare che questa qui è così perché... e gli spieghi magari la battuta che lui non ha colto. Come vi dicevo prima, sentirete una parte del pubblico che ride e l'altra parte che non ride perché non coglie la citazione, non coglie il rimando, la frecciatina a quel qualcosa che è accaduto nelle retrovie ma magari uno non è sul pezzo, con le notizie del cinema e quindi non sapeva di una certa cosa. Comunque tutto questo serve a alimentare e fomentare la grande sorpresa che riserveranno alcune scene e il bellissimo finale, che ripeto, per un film che non ha una storia, quel finale, quella scena finale è veramente epica. Guardate ragazzi, vorrei rivederla per ritrovare di nuovo questa carica energetica che è stata sviluppata e in tutto questo tra l'altro mi viene da dire che ci sarà, proprio nel momento in cui avrete i brividi per l'epicità di quello che state vedendo, riescono comunque a fare ridere perché si giocherà un po' con il corpo di Jack Ma. Devo invece però lamentare un certo problemino con l'edizione italiana, quindi questo che sto per dire esula da quello che è in sé Deadpool e Wolverine. Il problema sta nella scelta della doppiatrice per X23. Quando il suo personaggio ha iniziato a parlare ho sentito non solo dentro di me la mia voce interna che lamentava qualcosa, ma tutta la sala di botto ha iniziato con un brusio e ha un malcontento. Sembra purtroppo, e mi dispiace tantissimo doverlo dire, ma sembra una scelta poco professionale. È un problema non solo di recitazione, quindi proprio della qualità della recitazione del doppiaggio, ma anche della capacità tecnica di stare a sync, di muoversi nel labiale dell'attrice. Ci siamo tutti domandati perché. Giovani, io ho concluso di dirvi quello che volevo raccontarvi su Deadpool e Wolverine senza fare spoiler, quindi fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, ma secondo me vi piacerà, andrà benissimo, incasserà più di un miliardo. Se vi è piaciuta o meno la doppiatrice di X23, magari qualcuno mi scrive, no, guarda, non capisci niente di doppiaggio, è bravissima. Va bene? Mi raccomando però se commentate, se anche solo dissentite tra di voi, fatelo sempre con educazione. Stiamo parlando comunque di stronzate. Noi ci vediamo alla prossima Zambu recensione. Se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale perché è importantissimo. Potete anche seguirmi sui social. Io sono Andrea Zamburline e il mio film si chiama J-Loop. Grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao!